Sarà l'Europa il tema trainante delle manifestazioni che CGL Cisle e Will organizzeranno per celebrare la giornata del 1 maggio. A Piacenza si partirà alle ore 8.30 con la commemorazione e l'omaggio al monumento in via caduti sul lavoro, per poi proseguire alle 9.30 con il corteo che da Piazzale Genova sfilerà insieme alla banda Ponchielli per arrivare in Piazza Cavalli. Nel salotto buono della città alle 10.30 ci sarà l'incontro condibattito dal titolo Pensieri, Musica e Parole sul lavoro, a cura di CGL Cisle e Will con la partecipazione di Ammile e coordinamento donne. Contemporaneamente le celebrazioni verranno anche a Monticelli, alle 9.30 a concentramento del corteo in Piazza Matteotti con la banda che eseguirà Musiche Popolari del lavoro, avvio del corteo alle 10, omaggio ai caduti partigiani di tutte le guerre sul lavoro e alle 11 al giardino del municipio comizio del segretario regionale Wilpa, Giorgio Franchini. Il messaggio di quest'anno riguarda l'Europa, la giustizia sociale, la pace e i temi del lavoro. Ci apprestiamo alle elezioni europee, crediamo che il tema Europa sia molto importante per ridare dignità al lavoro, ridare giustizia ai lavoratori e lavoratrici, per ragionare di pace. grandi temi, la manifestazione nazionale sarà Monfalcone, il confine Gorizia, perché lì come dire si evidenzia un tema che riguarda l'Europa, l'apertura dei confini, che riguarda il mondo del lavoro, i lavoratori, i soggetti deboli. Piacenza riproponiamo il corteo e anche a Monticelli ci sarà il nostro corteo come tutti gli anni.